Però adesso voglio alzare ancora un po' la posta, perché la prossima pista è la pista che si ama più di sempre, è quella che ha voluto creare questa serata. E' quella che ha voluto creare questa serata, è quella che ha voluto creare tutto, perché è lei che gestisce, è lei che dà veramente tanto. Quindi, per te, chi ti vuole veramente bene, te lo dimostra, lo sa dimostrare con il cuore. Ragazzi, tutti in piedi! Per voi! Un applauso ci vuole, Sabine Garcia! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Un applauso! Un applauso! No, 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 no No, 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 no